Ciao ragazzi, con voi FeedBlitz, la puntata 100. Vediamo l'alimentazione e qual è il vostro fabbisogno di antiossidanti. Il fabbisogno di vitamine e minerali dipende dall'età, dalla massa corporea, dal livello di attività e dal metabolismo individuale. L'esercizio fisico regolare e intenso aumenta il fabbisogno di una serie di vitamine e minerali. Un consumo eccessivo però non migliora le prestazioni. Le vitamine A, D, B6 e una serie di minerali possono essere tossici se assunti in dosi elevate. Un buon integratore deve contenere tra il 100% e il 1000% della norma giornaliera per le vitamine e non più del 100% della norma per i minerali. Vediamo invece le ormoni. L'ormone GH, l'ormone della crescita. Fino a poco tempo fa il deficit del GH dovevano estrarre dall'ipofisi dei cadaveri e comunque quantità insignificante rischiando la contaminazione. Ma oggi la situazione è cambiata. Per recuperare il deficit del GH il trattamento è sicuro. Il vantaggio della terapia sostitutiva è indubbio. Migliora la qualità di vita. Aumenta la forza e l'efficienza muscolare. Anche la composizione corporea. Ma va prescritto solo nei casi di deficit veramente grave. Vediamo l'esercizio, ovvero i trazioni frontali alla LUT machine. Seduti fronte all'apparecchio con le gambe sotto i rulli. La barra deve essere impugnata in pronazione con le mani molto divaricate. Inspirare e tirare la barra fino alla forchetta esternale portando il petto fuori e i gomiti all'indietro. Espirare al termine del movimento. Questo esercizio è perfetto per sviluppare lo spessore della schiena. Fa lavorare le fibre superiori e centrali del grande dorsale. E' sollecitato il trapezzo, il romboide, il bicipite brachiale e il pettorale. L'ultimo argomento è l'anatomia umana. Le ossa. L'osso è il secondo tipo di tessuto connettivo di sostegno. Ci sono importanti differenze tra la cartilagine e l'osso. O tessuto osseo. Circa un terzo della matrice del tessuto osseo è costituito da fibre collagene. Il resto è una miscela di sale di calcio, principalmente fosfato di calcio, con una piccola quota di carbonato di calcio. Questo dà all'osso le proprietà eccezionali. I sale di calcio sono duri ma friabili. Le fibre collagene invece sono più deboli ma flessibili. Nell'osso i minerali si trovano intorno alle fibre collagene e ciò dà origine a strutture forti e in qualche modo flessibili, molto resistenti alla frantumazione. Nel complesso l'osso può competere con il miglior cemento armato. Le cellule osseo, gli osteociti, si trovano in lacune all'interno della matrice. Ci sono due tipi di osso. Osso compatto, che contiene vasi sanguigni intrappolati all'interno della matrice. E l'osso spugnoso, che è privo di vasi. Le superfici osseo sono ricoperte da un periostio, composto da uno strato fibroso esterno e uno strato cellulare interno. Il periostio interviene nell'adesione dell'osso ai tessuti circostanti e ai tendini e ai legamenti ad osso associati. Lo strato cellulare dà un importante contributo alla crescita ossea e partecipa alla riparazione ossea dopo una frattura. Per oggi è tutto, guardate Fitblitz su www.fitblitztv.com e seguitemi sui social Polina Ferrari oppure con hashtag Orsa Nera.